L'Inter prosegue la sua corsa solitaria in vetta alla classifica vincendo 4 a 2 sul campo della Roma nel match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I Nerazzurri salgono a 60 punti e si portano al Q7 della Juventus che sarà in campo lunedì sera contro l'Udinese. La Roma dopo tre vittorie consecutive incassa la prima sconfitta nella nuova gestione dei rossi rimanendo a quota 38. Le altre partite del sabato, le Lazio batte 3-1 Cagliari all'Unipol Domus, nel match serale finisce 1-1 tra Sessuolo e Torino. Oggi il resto del programma, il lunch match è Fiorentina-Frosinone, poi alle 15 due partite Monza-Verona e Bologna-Lecce. Dalle 18 Gemma-Talanca, mentre alle 20.45 chiude la domenica un altro big match come Milan contro Napoli. Grazie a tutti!